e che, ai sensi dell'articolo 12,2 del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Anticipo che, non appena ve ne saranno le condizioni, disporrò di passare alla votazione del documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi in quel di gennaio a Washington e New York. Per tale ragione vi è la possibilità che si interrompano brevemente i lavori proprio per procedere alla deliberazione, posto che si deve essere almeno in numero legale. Copia del documento è in distribuzione ab urbe condita. Prima di dare ingresso all'audito, rendo noto che è pervenuto, poc'anzi, dal Ministero della Giustizia il complesso dei documenti riguardanti le interlocuzioni scritte fra il Capo del Dipartimento all'interno del Capo del Dipartimento. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Guardi, lei ha appena fornito alla Commissione delle comunicazioni abbastanza importanti e rilevanti e sono essenziali per il buon andamento dell'audizione che noi oggi dovremmo fare. Io ritengo, e su questo vorrei sentire anche gli altri capigruppo, che non possiamo in così poco tempo e con così poco preavviso andare a leggere una documentazione importante e poi formulare domande. Io penso che per fare un lavoro comunque ordinato e ben fatto tutti i gruppi parlamentari hanno bisogno di un'adeguata tempistica per poter leggere bene le carte, studiare le carte, confrontarsi al proprio interno e poter formulare i quesiti che ognuno di noi vorrà fare. Quindi a questo punto ritengo opportuno rinviare, anche per il poco tempo che abbiamo a disposizione, magari l'audizione del Dottor Basentini e dare modo a tutti i gruppi di poter analizzare i documenti che sono arrivati e gli altri che dovranno arrivare la prossima settimana. Quindi io penso che primariamente dobbiamo acquisire tutte le informazioni e poi soltanto in un secondo momento effettuare l'audizione in plenaria. Grazie. Deputato Aiello, prima di dare la parola al Senatore Vitali e poi avevo visto un'altra mano alzata, altre mano alzate, tengo a ribadire che la documentazione inviata dal generale D'Amico, il comandante del Gomme, è arrivata in commissione circa 40 minuti fa, quindi il tempo materiale è per. Poi tengo anche a ribadire che noi siamo in attesa della documentazione che c'era stata prospettata e promessa dal Dottor Giulio Romano appunto da quando il Dottor Giulio Romano era stato udito e credo che siano forse più di 40 giorni. Poi se si lavora come amanuensi per produrre documenti con calligrafia di secoli fa, questo non è colpa mia. Prego, Senatore Vitali. Sì, grazie Presidente. Ritengo, apprezzate le circostanze, che non sarà possibile esaurire in questa sede l'audizione del Dottor Basentini, però per ottimizzare i nostri lavori, visto che noi alle 15 dobbiamo essere in Senato, io direi di far accomodare il Dottor Basentini e di fargli fare la sua relazione, che durerà una mezz'oretta, 40 minuti, avvisandolo che a settembre sarà richiamato per essere sottoposto alle domande dei commissari, d'ovvio che avremmo avuto contezza di tutta la documentazione che è arrivata. Grazie, Senatore Vitali. Mi sembra di aver visto prima il Senatore Mirabelli. Cerco di non sbagliare e chiedo a venire a se... Sì, Presidente, no, no, rapidamente. Io sono in maniera stupefacente d'accordo col Senatore Vitali perché penso che oggi stiamo in commissione perché il Dottor Basentini ha chiesto di essere audito. Il Dottor Basentini viene, ci dice quello che pensa, dopo di che vedremo i documenti e faremo... Grazie. 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 Scusate, siccome pare che ci sia il miracolo del numero legale, adesso verifichiamo e quindi... Prego, Dottor Basentini. Allora si può procedere? Allora scusatemi, un attimo dottor Basentini Se i relatori sono d'accordo procederei ora con il voto sul documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington, a New York nello scorso gennaio Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Approvato, vi voglio bene Adesso scusatemi, prego dottor Basentini a lei la parola Noi siamo qui desiderosi di ascoltarla quindi massima attenzione anche perché per motivi temporali lei ha capito che ci sono stati e ci saranno problemi però adesso possiamo concederle la parola Prego Grazie Grazie a tutti Voglio anticipare che affiderò appunto la mia relazione a un testo scritto con alcuni documenti che nelle relazioni stesse sono appunto richiamati sono documenti diciamo in copia, uso studio per quello che ho potuto appunto ricavare dalla mia documentazione a disposizione Desidero innanzitutto ringraziare questa onorevole commissione per avermi perdonatemi ma devo dirlo finalmente concesso la possibilità di offrire il mio contributo ai fatti e alle circostanze che da qualche mese sono oggetto della sua attenzione nonché del dibattito sui media Per diverse settimane sono stato oggetto di un vero e proprio linciaggio mediatico basato su congetture, giudizi e riflessioni privi di qualsiasi fondamento e spesso condizionati dalla mancata conoscenza sia degli elementi di fatto che delle norme di riferimento Il linciaggio caratterizzato da un carico altamente diffamatorio e manifestamente falso è andato ben oltre la valutazione della mia persona come capo del Dipartimento quasi avesse una preordinata ed unitaria regia diretta contro di me e contro i miei affetti familiari Contro di esso e contro chiunque, sottolineo chiunque, lo abbia messo in atto agirò senza esitazione difendendo quale magistrato i valori che ho più a cuore la mia toga e il rispetto delle istituzioni Ancora più desolante è constatare che ciò sia avvenuto sovente ad opera di sedicenti esperti della materia penitenziaria che hanno espresso opinioni e reso giudizi in nome di principi e interessi del tutto inconferenti con la realtà, con la nostra Costituzione e con il panorama delle leggi esistenti Un'analisi obiettiva e seria delle circostanze di interesse infatti non poteva e non può partire da un dato oggettivo ed inconfutabile spesso ignorato da molti, da troppi direi l'esistenza di una pandemia L'intero pianeta, il nostro Paese e quindi anche il sistema penitenziario ha affrontato e sta affrontando tuttora, è bene ricordarlo la più grave crisi umana, sociale ed economica dal dopoguerra ad oggi A fronteggiare la pandemia nessuno Stato, nessuna istituzione e nessun apparato amministrativo era pronto Di questa inevitabile impreparazione a combattere un agente virale pandemico occorre tener conto in qualunque confronto poiché diversamente ragionando qualsiasi valutazione dei fatti sarebbe irrispettosa della verità Nel grave scenario storico determinato dal Covid non si può inoltre dimenticare che la posizione del nostro Paese e quindi anche del nostro sistema penitenziario è stata ancora più complessa perché siamo stati la prima nazione dell'Occidente ad affrontare la pandemia e all'atto di iniziare questa battaglia non avevamo alcun riferimento organizzativo o dato di esperienza su cui poter fare affidamento Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato di fatto la prima organizzazione pubblica del mondo occidentale ed ossiderei dire forse dell'intero pianeta ad affrontare il tema della prevenzione e del rischio da contagio nelle carceri e a dover approntare rimedi idonei Il problema è stato subito avvertito con particolare apprezzione soprattutto considerando le complessive e complesse direi variabili che contraddistinguevano il nostro sistema penitenziario ossia lo stato di affollamento dei nostri istituti che rendeva complicato individuare e attuare possibili misure di prevenzione e l'individuazione dei piani di collaborazione con le autorità sanitarie locali che come sappiamo e non dobbiamo dimenticarlo erano alle prese con la gestione della pandemia soprattutto fuori dalle carceri si è agito quindi nella consapevolezza che una gestione non mirata del problema avrebbe potuto scatenare un contagio senza freni nelle carceri e che la vita di migliaia di detenuti e di unità del personale penitenziario era a serio rischio In questo complesso scenario quello dell'amministrazione penitenziaria è stato il primo dipartimento del Ministero della Giustizia ad adottare una circolare quella del 22 febbraio dettante le prime linee guida la circolare veniva inviata tutto il 5 febbraio veniva emanata a firma del capo del DAP una seconda circolare in cui si suggeriva ai provveditori delle regioni maggiormente colpite da virus di verificare informandone la popolazione detenuta la possibilità tra le altre cose di sospendere le attività trattamentali e di colloqui con familiari o terze persone diverse dai difensori sostituendoli con i videocolloqui si trattava di una coraggiosa quanto necessaria iniziativa frutta di confronti numerosi e costanti che il Dipartimento teneva sia con i vertici del Ministero che con tutti i territori attraverso ripetute e pressoché quotidiane conferenze videoconferenze quella con i vertici del Ministero vedevano la costante presenza del Ministro dei due sottosegretari dei due vicecapi di Gabinetto del Ministro del Garante Nazionale dei detenuti di alcuni capi di Dipartimento oltre che dei direttori generali del mio Dipartimento e forse dimentico qualcuno l'importanza e l'efficacia delle scelte adottate dal Dipartimento è dimostrata dal seguito che quelle scelte hanno avuto non solo in Italia ma anche negli altri paesi come le signorie loro ben sanno infatti quella della sospensione dei colloqui sarà la soluzione che il Governo dopo circa dieci giorni deciderà di far propria con il DPCM dell'8 marzo 2020 l'articolo 2 lettera U sul fronte internazionale e mi preme rimarcarlo voglio evidenziare che in quel periodo e di questo può essere testimone il dirigente dell'ufficio quinto sul coordinamento dei rapporti di cooperazione internazionale del DAP il Dipartimento riceveva continue richieste di informazione da parte degli altri paesi europei e non solo in ordine al tipo e alla natura delle misure adottate con particolare riferimento al tema dei colloqui non può essere considerato un caso dunque che la soluzione italiana quella cioè della sospensione dei colloqui con i parenti venisse successivamente replicata in Polonia Austria Irlanda Francia Slovacchia Malta Inghilterra e Galles Belgio Bulgaria Lettonia Lituania Lussemburgo Spagna e Catalogna Slovenia Repubblica cieca Svezia Norvegia Orlando Orlanda Romania Scozia Albania Turchia Israele e mi limito ai paesi europei e dell'area mediterranea Nessuno ha mai sottolineato come con tutte le variabili critiche che sussistevano e grazie comunque alle misure adottate il rischio di un contagio incontrollato nelle carceri sia stato nel nostro paese quasi azzerato e che l'Italia pur essendo uno dei paesi più duramente colpiti dal virus a livello extrapenitenziario abbia avuto rispetto al numero dei detenuti presenti uno dei valori più bassi di incidenza di mortalità da covid all'interno degli istituti quattro detenuti deceduti di cui due ricoverati in ospedale già da mesi prima e per altre patologie e dunque contagiati dal virus in strutture ospedaliere e non in quelle penitenziarie solo a titolo comparativo si può citare quale sia stata la situazione in Inghilterra un paese che ha una popolazione detenuta più o meno simile alla nostra l'Inghilterra già a metà aprile contava più di dieci detenuti per morti per covid 19 più del doppio di questo l'amministrazione penitenziaria non solo essa dovrebbe andar fiera specie dove si considera che il dipartimento operava in quel periodo senza un vice capo ed era stato per diversi mesi privo del direttore generale dei detenuti e del trattamento poi individuato qualche settimana prima che scoppiasse il covid nella persona del consigliere Giulio Romano un altro tema particolarmente critico comunque foriero di aspre critiche nei confronti del dipartimento è quello legato alle rivolte negli istituti penitenziari anche su questo versante però le considerazioni negative sono state rivolte al dipartimento senza avere contezza di diversi fattori a prescindere dall'analisi che sarà fatta nelle competenti sedi giudiziarie circa l'esistenza di una verosimile regia occulta dietro il divampare delle contestuali proteste nelle carceri non può sottacersi che i gravissimi episodi di tumulto e violenza posti in essere da alcuni detenuti siano stati un'esperienza non solo italiana ma comune alla maggior parte dei paesi del mondo a partire da metà marzo cioè da una settimana appena una settimana dopo le rivolte verificatesi nelle carceri italiane episodi analoghi hanno infatti avuto luogo in numerosissimi paesi è bene sapere infatti che in Francia si sono verificate più di 14 rivolte in altrettanti istituti in Svezia 2 una delle quali ha causato l'evasione di tre detenuti in Lussemburgo addirittura si è verificata una rivolta una delle rivolte verificate in Olanda ha costretto il personale di polizia all'uso dello spray al peperoncino in Romania il 18 marzo tre detenuti sono morti due sono rimasti gravemente feriti dopo un incendio nella prigione di Satu Mare anche in Belgio vi sono stati incidenti con incendi e proteste che hanno provocato il ferimento di diversi agenti in Spagna il 30 marzo numerose rivolte sono scoppiate nei carceri di Valenz tra cui Viena Foncalen Picassan e proprio in quegli istituti a seguito e a causa delle misure preventive messe in atto dall'autorità circa 300 degli 8.000 detenuti vi reclusi non hanno fatto rientro in carcere perfino in Svizzera il 4 aprile circa 40 detenuti nel carcere Shamdoion hanno avuto hanno provocato una protesta violenta anche in Grecia si sono avute rivolte con incendi a materassi e suppellettiri e allargando l'analisi al resto del mondo numerosi gravi incidenti hanno avuto luogo in alcuni istituti pretensiari degli Stati Uniti e di diversi stati sudamericani Colombia Messico Cile Peru Brasile in Venezuela una rivolta messa in atto dei detenuti ha provocato la fuga di molti di essi dieci dei quali sono morti in Australia hanno avuto luogo due rivolte nelle carceri del Queensland e del nuovo Gales del Sud potrei ancora continuare ma mi fermo qui dunque il fenomeno delle rivolte non fu solo italiano ed ebbe una dimensione internazionale eppure in nessuna delle sedi in cui si è trattata la problematica delle rivolte nelle nostre carceri si è fatto riferimento a quanto accadeva anche negli istituti penitenziari degli altri paesi e dico a me stesso che un'analisi comparativa delle esperienze è sempre utile particolarmente critica poi cambio argomento e negativa è stata da parte di molti la valutazione data al provvedimento del 21 marzo 2020 della direzione generale dei detenuti e del trattamento la genesi e le ragioni che hanno determinato la sua emanazione è nota alle signorie loro essendo stata dettagliatamente e puntualmente ricostruita dal consigliere romano nel corso della sua audizione dunque non mi soffermerò sui medesimi aspetti una riflessione utile però appare necessaria e riguarda la stretta correlazione di contenuto tra la stessa nota e l'articolo 23 secondo comma del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario sto parlando del DPR del 30 giugno 2000 numero 230 norma questa che esiste da circa 20 anni 20 questa norma prevede leggo testualmente fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti risulti che una persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147 primo comma numeri 2 e 3 del codice penale la direzione dell'istituto trasmette trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza la direzione provvede analogamente quando la persona interessata si trovi in stato di custodia cautelare trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria procedente la norma cioè sancisce in capo ai direttori degli istituti penitenziari l'obbligo non la facoltà di segnalare alla magistratura sia di sorveglianza che di merito la sussistenza di possibili cause che possono giustificare l'adozione dei provvedimenti di quegli articoli 146 e 147 cioè con cui si dispone rispettivamente il rinvio obbligatorio facoltativo dell'esecuzione della pena la nota del 21 marzo 2020 in termini molto molto più blandi ribadisce la stessa cosa è evidente tuttavia che l'obbligo di segnalazione discenda dal regolamento e non dalla nota del 21 marzo 2020 ecco perché non avrebbe avuto alcun senso o alcun effetto intervenire sulla nota una volta emessa come invece aveva suggerito una dirigente della direzione generale dei detenuti e del trattamento sull'accesso dibattito che si è concentrato su quel provvedimento mi sono posto però diversi interrogativi in primo luogo come si può pensare che sia stata la nota a determinare le scarcerazioni esistendo una norma da oltre 20 anni prima della circolare del 21 marzo come si può ritenere che essa non doveva essere emanata quando è evidente che la stessa nota si limita ad invitare i direttori degli istituti ad agire come già previsto dal regolamento di esecuzione e un'ultima considerazione mi sia consentita dato per scontato che l'obbligo di segnalazione discenda dalla fonte normativa che ho menzionato e non dalla nota del 21 marzo se si temevano possibili effetti negativi con le scarcerazioni bisognava intervenire direttamente sulla norma regolamentare provvedendo a modificarla o ad abrogarla e questo come è noto non è uno dei compiti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel proseguire in questo mio intervento non ruberò molto tempo alla vostra attenzione e desidero soffermarmi su uno degli aspetti più sconfortanti e inaccettabili di tutta questa vicenda e cioè il sospetto da qualcuno pur avanzato che il Dipartimento abbia inteso adottare nel gestire e prevenire il rischio del contagio all'interno degli istituti penitenziari soluzioni che favorissero comunque la scarcerazione dei detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza o a regime detentivo differenziato ex articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario premesso che nessun potere che produca tale effetto può mai essere espresso dal Dipartimento trattandosi di prerogativa aspettante alla magistratura competente l'ipotesi formulata da certi detrattori può essere facilmente confutata l'azione amministrativa messa in atto dal Dipartimento sotto la mia guida è stata sempre diretta a correggere le pure evidenti anomalie che erano presenti da anni nella gestione di quei circuiti detentivi anomalie e strutture che avrebbero dovuto essere corrette o eliminate da tempo a partire dal luglio del 2018 l'attività del Dipartimento è stata attesa ad individuare problematiche mai isolate prima e ad intraprendere scelte ed iniziative sul tema dei circuiti dell'alta sicurezza del 41 bis dell'ordinamento penitenziario e proprio questa onorevole commissione può essermi testimone nel maggio del 2019 sono stato infatti audito dalle signorie loro e nel corso della mia audizione sottolineavo l'esistenza di una questione di estrema rilevanza legata alla difesa dei detenuti appartenenti al circuito ex articolo 41 bis mai questo tema era stato affrontato l'argomento venne successivamente illustrato anche al procuratore nazionale antimafia e a tutti i procuratori distrettuali durante un incontro tenutesi nel dicembre del 2019 nella stessa audizione del maggio 2019 innanzi a questa commissione portavo all'attenzione delle signorie loro l'esistenza di un nuovo modello di gestione dei detenuti su cui si stava lavorando e in particolare stava lavorando un gruppo di esperti direttori e poliziotti peritenziari che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto diretto a creare un sistema trattamentale su base progressiva che vedeva nelle cosiddette celle aperte il risultato di un percorso del detenuto e non un rimedio generalizzato e rimediato lo stesso modello poi nell'affrontare la problematica delle aggressioni al personale proponeva alcune importanti soluzioni operative il nuovo modello venne definito nell'estate del 2019 e portato subito all'attenzione dei vertici ministeriali l'attuazione di questo sistema avrebbe agevolato ed ottimizzato anche l'impiego di personale penitenziario e mi auguro che su tale modello auspicato ed apprezzato dalla polizia penitenziaria siano lavorando i nuovi vertici dipartimentali altra iniziativa che venne adottata per la prima volta dal dipartimento fu quella della movimentazione di quei detenuti del circuito di alta sicurezza che si trovavano da anni reclusi negli istituti penitenziari ubicati nelle medesime aree di origine criminale nel giugno del 2019 io personalmente constatai che vi erano circa 3.800 detenuti in questa condizione spesso senza un'esigenza processuale che non gestificasse la permanenza in quegli istituti in buona sostanza si trattava di detenuti siciliani calabresi o campani reclusi rispettivamente negli istituti penitenziari della stessa area di provenienza era una situazione che andava assolutamente corretta dal mio punto di vista occorreva dunque un intervento e con ordine di servizio del 25 luglio 2019 costituì la task force per la movimentazione dei detenuti di alta sicurezza dando l'incarico alla dirigente competente e alla dottressa Montemerani un magistrato impiegato al DAP di programmare ed attuare un progressivo trasferimento di questi detenuti verso altri istituti preferibilmente ubicati nelle aree del centro nord di tale programma di notizia al ministro della giustizia e all'allora ministro dell'interno che pubblicamente e in occasione di un'intervista mi ringraziò per l'iniziativa oltre che al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali in occasione del già citato incontro del dicembre 2019 un piano con analoghe finalità inoltre venne da me concepito in merito al sistema delle celle aperte che veniva applicato in diversi istituti penitenziari a favore dei detenuti del circuito di alta sicurezza quasi sempre senza alcuna autorizzazione del dipartimento anche in questo caso è una situazione che durava da anni da anni e in questa circostanza come in quello della movimentazione dei detenuti di alta sicurezza nessuno neanche i dirigenti della direzione generale dei detenuti del trattamento mi aveva preventivamente informato della situazione e quindi delle problematiche ad essa correlate eppure era una condizione che come ho già detto durava da moltissimo tempo di entrambe infatti dell'una e dell'altra veni a conoscenza in occasione degli incontri da me programmati e svolti sia nel 2018 che nel 2019 con i provveditori i direttori e i comandanti di istituto di tutta Italia in particolare relativamente al problema delle celle aperte per i detenuti di alta sicurezza ne ebbi contezza durante l'incontro a Sassari nel novembre 2019 dove erano presenti tutti i direttori e i comandanti delle carceri sarde in quella circostanza ricordo che il comandante di polizia penitenziaria di Tempio Pausania mi riferì che nel suo istituto oltre 170 detenuti di alta sicurezza fruivano del regime delle celle aperte e su mia domanda ammise che la misura era stata adottata oltre 10 anni prima continuando il programma degli incontri con i vertici degli altri istituti appresi che condizioni identiche persistevano a Secondigliano e in tanti altri carceri era una situazione dal mio punto di vista molto insidiosa tornato a Roma contattai immediatamente la dottoressa Malagoli rappresentandole le informazioni che avevo ricevuto e la invitai a fare immediatamente un sondaggio per verificare quale fosse la reale ed effettiva applicazione del regime delle celle aperte nei circuiti di alta sicurezza raccomandai la Malagoli di osservare la massima tempestività e suggerì che il problema poteva essere risolto approfittando della contestuale movimentazione dei detenuti di alta sicurezza da un istituto ad un altro non essendo praticabile per ovvie ragioni di sicurezza l'immediata revoca del regime vigente alla fine del gennaio 2020 il sondaggio non si era ancora concluso e il successivo di fondersi del covid come è facile immaginare rallentò inevitabilmente l'attuazione del piano l'ultima riflessione che voglio portare all'attenzione delle signore vostre riguarda il gruppo operativo mobile dall'inizio del mio incarico mi resi conto che il GOM soffriva di evidenti problemi di organico legati al fatto che non vi era alcun turnover di personale negli interpelli pur effettuati terminavano con essiti proficui in buona sostanza il servizio presso il GOM risultava non interessare il personale di polizia penitenziaria l'esigenza venne in buona parte risolta grazie a vari interpelli straordinari indetti tra la fine del 2018 e la fine del 2019 anche se l'emoragia di organico spesso si ripetiva mi posi allora l'obiettivo di rafforzare e di incrementare le piante organiche del GOM oltre che di tutta la polizia penitenziaria e a tale scopo diede ad un gruppo di esperti operanti sui territori lo stesso che aveva concepito il nuovo modello di gestione trattamentale dei detenuti di cui ho parlato sopra di elaborare una proposta sulle nuove piante organiche lo studio portò ad individuare il nuovo organico del GOM in oltre 800 unità rispetto alle 620 che sono previsti oggi si tratta di un incremento consistente che dimostra l'attenzione che intendevo dare al gruppo operativo mobile il progetto è stato ultimato da tempo e credo che costituisca uno studio eccezionale e strategico certamente da non trascurare altro importante obiettivo portato a compimento fu quello di proporre ai vertici ministeriali la possibilità di adottare un nuovo decreto ministeriale del GOM che privilegiasse il servizio dando al suo personale alcuni incentivi all'accesso e alla permanenza nel gruppo il lavoro sulla bozza del nuovo decreto iniziò nel febbraio 2019 e vide la formalizzazione di diverse stesure sistematicamente offerte all'analisi del sottosegretario competente fino a quella definitiva trasmessa al gabinetto il 14 ottobre 2019 mi auguro che il nuovo decreto del GOM firmato la scorsa settimana si ispiri ai medesimi obiettivi e all'analoga struttura organizzativa con particolare riferimento agli incentivi per il personale che garantiscono una stabilità nella dotazione organica del gruppo un discorso a parte e concludo devo fare necessariamente a proposito del direttore del GOM che avete ascoltato recentemente nei primi mesi del 2019 mi vennero riportati due episodi riguardanti alcune iniziative prese dal direttore e non solo senza che mi venisse data alcuna informazione ebbi la conferma che almeno la prima di esse aveva avuto effettivamente luogo anche se ignoravo le reali finalità dei comportamenti avuti non apprezzai per nulla quanto accaduto e persi la totale fiducia nella persona del generale d'amico informai di tutto il ministro il sottosegretario Ferraresi nonché il capo di gabinetto chiedendo loro di valutare l'opportunità di sostituirlo del resto anche al di là dei fatti che mi erano stati riferiti vi era una ragione tecnica che ne rendeva necessaria la sua sostituzione e cioè che l'incarico del generale iniziato nel febbraio 2012 in base al decreto sul gomma allora in vigore sarebbe scaduto nel febbraio 2019 non si trascuri che era in corso già dal 2018 se non erro la procedura di interpello per la movimentazione dei dirigenti superiori della polizia petenziaria ossia di tutti i generali del disciolto corpo degli agenti di custodia ebbene dopo oltre un anno la procedura riguardò tutti i generali tutti i generali tranne due il generale d'amico e il generale Vicenzi quest'ultimo era uno dei possibili candidati alla direzione del gomma e avendo interesse ad una tempestiva informazione sui tempi della procedura di movimentazione il 25 febbraio 2020 fece prevenire una nota di sollecito al dipartimento la sostituzione del generale d'amico appariva ancora più opportuna in considerazione del fatto che si era praticamente interrotto il filo comunicativo con il capo del dipartimento la mancanza di un adeguato flusso informativo venne da me rimarcata in occasione di un incontro tenutosi presso lo studio del capo di gabinetto nel luglio del 2019 anche alla presenza fra gli altri del sottosegretario ferraresi del capo di gabinetto e dello stesso direttore del gomma non ero solo ad essere privato delle necessarie informazioni del resto la stessa direzione generale dei detenuti e del trattamento e precisamente la dottoressa Malagoli con due distinte note entrambi del 7 febbraio 2020 si lamentava formalmente per le omesse comunicazioni del gomma la cosa emersa in particolare poi a seguito di alcuni eventi critici verificatesi nello scorso inverno fatti molto gravi mi riferisco a quanto accaduto il 5 il 21 novembre 2019 rispettivamente a Sassari a Parma in relazione all'inverimento di tre cellulari alla detenzione di un punteruolo da parte di Leluca Bagarella e all'aggressione compiuta in carcere da costui ai danni di un agente di polizia penitenziaria nonché mi riferisco inoltre a quanto accaduto nel reparto 41 bis di Roma Rebibbia allorché viene ritrovata una pinzetta metallica nascosta nella cucitura di un accappatoio di un detenuto anche in tal caso non mi venne data alcuna comunicazione effettuai personalmente un accesso presso l'istituto penitenziario ed acquisendo gli atti utili ebbi modo di riscontrare gravissime anomalie delle quali interessai gli organi competenti nel frattempo avevo provveduto a disporre con ordine di servizio del 7 gennaio 2020 un provvedimento che contiene fra le altre cose questo passaggio che voglio leggervi testualmente poche righe disponevo che per ogni evento critico degno di apprezzabile rilevanza mi venga data tempestiva informazione da parte del responsabile del romo competente mediante il diretto contatto telefonico anche tramite sms sull'utenza numero oppure mediante email all'indirizzo riposta elettronica francesco.basentini mi risulta che in merito a questo provvedimento il generale d'amico nel corso dell'audizione in anzi a questa commissione abbia definito tale disposizione addirittura illegittima in quanto con essa avrei reclamato il diritto ad un'informazione esclusiva a discapito di quella che istituzionalmente il personale del GOM avrebbe dovuto dare alla direzione dell'istituto il citato generale ha poi riferito anche che i suoi collaboratori non avrebbero dato seguito alla mia disposizione ma come si può facilmente leggere e dedurre dal passaggio che vi ho letto nel corpo dell'atto non ho mai disposto che le informazioni di interesse avrebbero dovuto essere offerte a me in via esclusiva e del resto mi vuole smentire su questo il generale d'amico rappresentando che al contrario di quanti da lui sostenuto ricevetti diverse segnalazioni via mail dai referenti territoriali del GOM su quanto accadeva nei reparti e di questo posso fornire facilmente traccia concludo ho voluto con queste mie riflessioni offrire un quadro completo delle vicende ricomprensivo di quegli elementi fattuali che fino ad ora non erano stati offerti alla vostra conoscenza l'intento è quello di dimostrare che ho improntato il mio contegno sia nei confronti di tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria che nei confronti degli organi e delle istituzioni tutte alla massima trasparenza correttezza e a rispetto della legalità ne ringraziarvi per l'attenzione offerta resto a disposizione delle signorie loro per ogni eventuale chiarimento e provvedo a depositare la relazione con gli allegati dottor Basentini io la ringrazio sono le 14.45 quindi vi dico preliminarmente che alle 14.50 io debbo interrompere il tutto ve l'ho detto in premessa pertanto risultano prenotati il senatore Vitale e la deputata Ferro vi invito ad essere i più celeri possibili io debbo far rispettare il diritto di tutti quanti i senatori a poter partecipare ai lavori d'aula ordine dei lavori che lavori Presidente a questo punto è opportuno chiuderla qui l'audizione in modo che ci sia una contestualità di domande da parte di tutti i commissari con maggiore approfondimento su quella documentazione che è arrivata non è opportuno che faccia io faccia quello lo facciamo tanto siccome il dottor Basentini dovrà essere invitato nuovamente in un'altra seduta in quella seduta tutti quanti faranno le domande che riterranno opportune prego deputata Ferro no ordine dei lavori per favore sull'ordine dei lavori prego deputato Migliorino grazie eravamo stati molto chiari nel fatto di porre domande nella prossima seduta e di prendere la relazione che grazie al dottor Basentini verrà rilasciata quindi vorrei che tutti quanti avessimo lo stesso trattamento per favore ma questo era appunto quello che razionalmente sembrava emergere dalla conduzione e dalla conclusione dei lavori perché come v'ho anticipato se alle 14.50 dobbiamo terminare non posso permetter che pertanto pertanto deputata Ferro solo e soltanto sull'ordine dei lavori prego sì Presidente assolutamente per me va bene credo anche che la puntualizzazione fatta dal collega sinceramente la trovo superflua perché era nell'intenzione e nell'interesse di tutti soprattutto di coloro che hanno più volte sollecitato questa audizione del dottor Basentini quindi mi sento solo di fare una correzione non finalmente perché la Commissione su questo ovviamente il dottor Basentini ha lavorato tanto ha avuto la possibilità di audire tante persone che certamente hanno dato un contributo come lo ha fornito lei oggi quindi insomma per quanto mi riguarda l'unica cosa chiedo sull'ordine della voi che la prima Commissione che andremo a fissare credo nell'ufficio di Presidenza veda ovviamente la possibilità di incontrare nuovamente il dottor Basentini che ovviamente ringrazio va bene deputata Ferro ringrazio tutti i partecipanti mi sembra che la conclusione sia quella per cui tutti quanti vi state già alzando dovendo ritornare alle nostre aule di appartenenza per cui v'anticipo che la plenaria di domani è stata sconvocata già che si è deciso di procedere diversamente in comitato grazie a tutti e tutti quanti possiamo scappare poi ci risentiremo grazie a tutti